Signor Presidente della Regione, in autorità, Presidente Policanti e cari amici che siete intervenuti qui quest'oggi, desidero ovviamente e sentitamente rivolgere un caloroso saluto a nome del Consiglio regionale che ho l'onore di presiedere, mio personale, soprattutto perché avete voluto cogliere questo invito, lo ricordava un po' anche il Presidente, per un convegno che vuole essere anche un momento di approfondimento e di confronto tra le varie realtà dell'editoria piemontese, riguardo a un tema affascinante come quello delle nuove tecnologie e quindi inevitabilmente anche tutte quelle trasformazioni che queste nuove tecnologie hanno comportato, stanno comportando e comporteranno. Ringrazio in particolare e saluto gli editori, gli editori della FIPEG, in primo luogo il Presidente Pietro Policanti, per avere proposto questa iniziativa, quindi sicuramente sia il Governo regionale che il Consiglio ha dato una mano, però voi avete il merito sicuramente di averla proposta, di averla voluta. Noi, d'altronde, con FIPEG abbiamo una collaborazione che ha delle radici antiche nella notte dei tempi del Consiglio e della Regione, in particolare è stata fatta anche una legge apposita, la 18 del 2008, dedicata all'editoria locale, una norma che è stata, come vediamo oggi, dopo circa cinque anni, per certi aspetti anticipatrice, e che dimostra in modo inequivocabile, anche nei momenti difficili, abbiamo vissuto anche in questi ultimi anni insieme, l'impegno della nostra istituzione, che pone nei confronti del panorama dell'informazione a 360 gradi, ma in particolare dell'informazione locale piemontese, che anche attraverso la carta stampata e la propria inevitabile, robusta articolazione territoriale, rappresenta forse in un panorama nazionale una sorta di unicum, come ci piace dire, come abbiamo detto anche tante volte. Una collaborazione che si concretizza ogni giorno, grazie all'interesse che voi editori, i direttori, i giornalisti, delle testate di informazione locale, dedicano, dedicano in particolare alla nostra istituzione in sensi generale, ma anche alla nostra attività, abbiamo anche, le abbiamo volute anche mantenere in un momento difficile di crisi economica, come sappiamo, le pagine di comunicazione istituzionale, che il Consiglio prosegue, attraverso i vostri giornali entrano nelle case dei piemontesi, e possiamo dire alle famiglie piemontesi, che fortunatamente per voi i giornali locali li comprano e li comprano ancora, possono vedere le nostre attività, quello che facciamo, in un certo senso, controllarci anche un po' se facciamo quello che abbiamo promesso e quello su cui ci siamo impegnati. L'abbiamo mantenuto anche quest'anno, in una situazione di restrizione finanziaria pesante, che hanno colpito anche il nostro bilancio, poi penso che il Presidente della Regione potrà dirlo sicuramente meglio di me, ma anche il nostro, diciamo, tra virgolette piccolo bilancio del Consiglio, speriamo di poter mantenere in futuro, anche in un momento di crisi, questa è la nostra volontà, lo diciamo subito, questa collaborazione anche con queste pagine, che sono importanti per certi aspetti strategiche nella nostra comunicazione. Fin dalla via di questa legislatura, quindi che è partita nel 2010, è stato un obiettivo primario del Consiglio regionale, dare continuità al progetto di piattaforma giornalistica, mediante il quale oggi viene realizzata la nostra rassegna stampa. Stiamo andando verso un progetto di dematerializzazione che investe un po' tutte le procedure del Consiglio, questa è un po' la novità di questa legislatura, a cominciare anche addirittura dal processo legislativo, sapete che noi abbiamo eliminato un po' la carta dall'Aula, non ci sono più gli emendamenti cartacei, gli unici, sono io privilegiato perché devono darmi gli originali, se no tutti i consiglieri, gli assessori, diciamo seguono il processo legislativo e costruiscono in Aula le leggi con la tablet che è diventato uno strumento di lavoro sul quale si possono trovare tutto quello che serve per il processo legislativo. Ma ci è parso anche molto opportuno utilizzare la possibilità che la piattaforma offre, cioè di disporre delle versioni digitali di tutti i periodici che vi aderiscono, che sono quasi direi tutta la totalità in Piemonte, per passare poi a una versione digitale della rassegna stampa, saltando anche, come si sa il Presidente della Regione, perché stiamo lavorando, che questa è una novità da questa legislatura, molto insieme, la Giunta e il Consiglio, prima erano un po' due entità separate sulla comunicazione, saltando quindi anche la fase cartacea della tradizionale rassegna, quindi del ritaglio, anche con tutto quello che comporta, oltre che per riduzione di costo economico, anche di rispetto all'ambiente, la possibilità per ciascuno di poter operare ovunque nel mondo, perché io, insomma, col tablet, come ciascuno di loro, posso essere dove sono e mi guardo la rassegna, mi guardo i vostri giornali e quant'altro. Quindi questo vuol dire essere dal nostro punto di vista all'altezza di questo processo di dematerializzazione in un mondo moderno che a velocità molto rapida sta andando avanti. Poi, qui, so che l'auspicio è che il giornale resti, io quando vado in vacanza me li compro ancora, anche se, ovviamente, la cronaca della mia provincia, ma la guardo sul tablet, perché magari sono in un'altra regione, però il piacere ancora del giornale, soprattutto del giornale locale, ovviamente è un piacere che auguro loro, ma anche a me stesso, possa durare ancora per molto tempo. Entro la fine di quest'anno, di questo 2013, questo processo raggiungerà una fase molto avanzata. Ciò grazie anche all'impegno del Consorzio del CSI, che ha curato la piattaforma informatica, degli uffici stampa della Giunta, degli uffici stampa del Consiglio, ma soprattutto per la preziosa collaborazione che voi ci offrite, che gli editori quindi ci offrono, mi riferisco in particolare alle testate aderenti. In questa occasione desidero quindi ribadire, l'ho fatto anche poco fa, ma lo voglio dire in maniera più cara, l'impegno e l'attenzione che il Consiglio regionale intende porre tutte le problematiche che toccano il settore dell'editoria locale e dell'informazione in senso più ampio possibile. Abbiamo la consapevolezza delle difficoltà legate al cambiamento tecnologico, alla necessità che avete in un momento di crisi per stare al passo dei tempi di fare investimenti, alle esigenze nuove che ogni giorno emergono, ai problemi, anche occupazionali e me, questo purtroppo tocca a tutti, che questa lunga, lunga crisi per questo settore, forse più che in altri comparti dell'economia, accentuato e reso ancora più urgenti. La nostra attenzione si rivolge agli editori, alle testate, così come ai professionisti, i giornalisti, i collaboratori, i grafici, e tutte le figure professionali impegnate nell'attività editoriale e informativa che sono il vostro mondo e che sono il nostro mondo, che siamo gli utenti del vostro lavoro, della vostra professione e del vostro sacrificio. Sono certo e mi auguro che da questo dibattito qualificato alla presenza di relatori che provengano da diverse realtà, piemontesi che rappresentano diverse realtà, diversi ambiti, poi non solo piemontesi, potrà venire un contributo di conoscenza e di proposte di cui cercheremo come Assemblea Legislativa certamente di tenere conto nella nostra azione quotidiana, nella nostra azione legislativa. Io rimarrò qua ancora un po', mi scuso, dovrò poi lasciare questo convegno, mi scuso con coloro i quali interverranno dopo, perché mi devo reccare a Vermagna, perché devo partecipare a una cerimonia di un giuramento degli allievi di Polizia Penitenziaria, che abbiamo la scuola Vermagna, quindi come sapete Vermagna lontana, però un po' rimarrò qua con voi e auguro veramente a tutti loro, da parte della nostra Assemblea, un buon lavoro e proficchi risultati da questo momento di confronto.